Ma buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovato nel vostro bomber nero azzurro, è finita San Siro tra Inter e Benevento, 4-0 per l'Inter, allora innanzitutto voglio partire col video con tanti applausi, tanti 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 applausi per Christian Eriksen, Christian detto Eriksen. Io ragazzi lo criticavo quando c'era da criticarlo, però adesso nel nuovo ruolo, nel nuovo ruolo, perché chi guarda le partite sa che Eriksen gioca in un nuovo ruolo da playmaker basso, non da trequartista. Conte è riuscito ad adattarlo e vanno fatti complimenti al mister Conte per questo. Eriksen è finalmente un giocatore ritrovato, che si rivede in campo bene come lo era all'inizio dei tempi del Tottenham, veramente veramente un grande giocatore se continua a fornire queste grandi prestazioni, veramente applausi per Christian Eriksen. Ma come applausi per tutti, come Dukaku che segna una doppietta e non ci sarà mercoledì con la gara di andata di semifinale con la Juventus, non ci sarà neanche Akimi, autore di un gol annullato giustamente in posizione di fuorigioco nettamente, come anche bravo Lautaro che si è risbloccato finalmente, che si ha una rampa di lancio per arrivare al meglio la partita con la Juventus di Coppa Italia mercoledì alle ore 18. Perché è fondamentale provare a passare in finale, è fondamentale a vincere anche la Coppa Italia perché quest'anno vogliamo i trofei e dobbiamo ottenerli ragazzi, non ci nascondiamo e non ci piove su questa cosa. Bravi tutti, bravi tutti, un 4-0 rotondo che mi aspettavo perché me lo aspettavo dall'Inter, aspettavo una partita cattiva però l'avversario ragazzi, io restiamo umili perché l'avversario è il Benevento. Una squadra che comunque gioca bene a calcio, stasera non ha potuto esprimere il suo gioco perché l'Inter non gliel'ha fatto proprio esprimere. Poi ho un arbitraggio stasera corretto, ho sentito un amico di Benevento che saluto, Pio, che ha detto che reclamava un rigore per il Benevento. Benevento sinceramente non ci ho fatto caso, me lo andrò a rivedere, poi guarderò e ne parleremo tanto. Poi ne parliamo in Arena Sportiva, lunedì, mi raccomando, sintronizzati su Twitch, YouTube, Multistreaming, sia su Twitch che YouTube, passate, Arena Sportiva. Mettete un bel follower perché dobbiamo crescere e arrivare ai 100, eh ragazzi, 100 follower, abbiamo aperto, Valex ha aperto la pagina da pochi giorni, quindi stiamo crescendo in maniera smisurata nel giro di pochi giorni. Quindi andate a mettere follower, ragazzi, immediatamente e anche su YouTube, iscrizione. Ragazzi, che dire, l'Inter ha giocato veramente bene, ha giocato una grandissima partita, ovvio, l'avversario è il Benevento. Ora ci aspetta un Tour de Force, un Tour de Force in campionato veramente ostico, già a partire con la Coppa Italia perché la Coppa Italia c'è la Juventus, comunque sia una gara di tutto rispetto perché è il derby d'Italia, è il derby d'Italia, si scende in campo sempre per giocarlo bene e vincerlo. Dobbiamo provarci, sarà difficile perché la Juve poche volte sbaglia le partite, c'è da essere sinceri, la Juve non è la Juve degli anni scorsi ma la Juve anche sbaglia poco e poco. Le partite, specialmente con le grandi. Che dire, ragazzi, io non ho potuto fare la live perché sono tornato tardi da lavoro e mi dispiace a tutti quanti, vi chiedo scusa, prossimamente ci ritroveremo in live con tutti gli altri ragazzi. Farò anche live di serie B, le farò le live su Arena Sportiva, quindi dovete venire a vedere perché tratterò anche le altre gare di serie B e sul mio invece vedete solo di serie B il Bisa. Quindi, venite tutti e ci seguiremo le gare anche di serie B. Ragazzi, che dirvi, vi saluto, buonanotte, ci vediamo prossima settimana, mercoledì, ci vediamo mercoledì a 18. Un bacione, ciao a tutti e mi raccomando, seguite Arena Sportiva, anzi ora vado anche su Instagram, venite che ci devo fare dei stories. Dai, dai, sempre Forza Inter, vamos, ragazzi, vamos!